Ciao a tutti e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andrò a farvi vedere una problematica che capita sulla Audi A3, Volkswagen Golf 7 e anche Audi Q3, tutte quelle che hanno il motore trasversale, quindi avantreno e sistema di sospensione MacPherson. Quando voi sterzate potete sentire un rumore anche da fermo e ogni tanto lo fanno anche però su piccole discese o avvallamenti, potete sentire un tac tac che più o meno vi può sembrare che arriva da questa zona. Il problema è questo cuscinetto che è montato sull'ammortizzatore, praticamente qua sotto. Quando andate a sterzare l'ammortizzatore fa questo, vedete? Sterza ovviamente con la ruota, no? Allora a forza di sterzare col peso della vettura cosa succede? Succede che questo cuscinetto si usura, infatti come vedete qua è già uscito tutto fuori l'olio, vedete perché dentro c'è una sorta di lubrificante che di solito è grasso, quindi per andare a togliere questo fastidioso rumore e tra l'altro quelli che sono molto usurati fanno anche fatica nel ritorno dello sterzo, ma lì siamo proprio in casi estremi, quindi per andare a togliere questo rumore bisogna andare a sostituire questo cuscinetto che va sul piattello dell'ammortizzatore che viene installato qua sotto. Ovviamente ci va un cuscinetto originale, perché di concorrenza non durano da Natale a Santo Stefano, ci va un cuscinetto originale, si va a tirare giù l'ammortizzatore, si cambia il cuscinetto e la vettura sarà di nuovo come nuova, quindi con una semplice operazione, tra l'altro anche un po' costosa, perché questi pezzi costano veramente poco, si va di nuovo a rimettere in forma la vettura e questi fastidiosi rumori non ci sono più. Per info preventivi ci potete chiamare al numero 0141 96 92 14 o una mail a info.it o anche un whatsapp al 345 060 86 80. Se avete la necessità di avere l'autostitutiva, noi ve la possiamo dare a uso gratuito, basta che ci accordiamo prima, quindi per quando non è un problema. Ciao a tutti, alla prossima!